C'è una buona di macchina, le spasci tutte. Com'è che può essere successo? Scusa perché non ti compie una carrozza di cavalli è sicuro che arrivi. Secondo me la cosa migliore. Ammazzate? Ammazzate? Nooo! Miravo! Eh? Mi sto male male? No 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 va bene, in modo che non ti vada. Grazie. Vediamo sempre e parlare al conducente. Bene! Ciao! Scriviti! Stotta! Dai! Sì è simpola qua che elegante! La fa che elegante! Prego! Ragazzi! Alla grande! Altonio! Ma che son visi! No, è male proprio! No! 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 V называется Ra. E... Ma che sonила su perché? No! Grazie a tutti.